Ragazzi, prima che inizio il video, vi volevo fare questa premessa per farvi vedere su come scaricare le hack di Among Us nel mio server Discord, in caso non lo sappiate. Basta che andate sotto in descrizione e andate a cliccare il link del mio gruppo Discord per unirvi. Quindi lo cliccate e venite facendo accetto invito. Dopo che vi siete uniti, ragazzi, basta che andate in alto a sinistra e cliccate quelle tre lineette. Poi andate in basso, dove a un certo punto troverete la scritta Among Us. E sotto la scritta Among Us troverete una chat testuale che sarà scritta Hack Among Us Do Flood. Quindi ci cliccate là e qua troverete tutte le hack di Among Us che pubblicherò in diversi video. Spero che vi sia stato utile. E niente, vi lascio il video. Bella! E bello a tutti, ragazzi, qua dal vostro YD2002 che vi parla. E ragazzi, oggi ragazzi siamo sul nuovissimo video di Brawl Stars. E questo è il secondo video che facciamo. E se no che il primo ha raggiunto i 30 likes, ragazzi, io vi sfido. Se volete un prossimo video sulle hack di Among Us raggiungiamo i 40 like. Vediamo un po' se li riusciamo a raggiungere. Ragazzi, oggi siamo in un mod menu diverso. E infatti siamo con questo mod menu che, ragazzi, ha molte ma molte più cose del primo che abbiamo fatto vedere. Andiamo subito a provarlo. Ovviamente andiamo in una pubblica ed entriamo. Per provarlo subitissimo. Allora, entriamo, che ne so, in questa. Allora, player speed. Vediamo un po'. Penso che va di... Si vede. Ok, quello si era buggato malissimo. Ok, ragazzi. C'ha la velocità. E qua possiamo mettere quanto vogliamo, 100, 0, quanto vogliamo noi. Poi, il massimo di... Come si dice? Ok, c'erano altri cheater. Ok. Allora, vediamo un po'. Entriamo in un'altra stanza dove possiamo. Qua max light range, quindi possiamo vedere tutta, ma proprio tutta la mappa. Anche se l'elettricità è spenta. Il fake impostor, ragazzi. Il fake impostor è bellissimo. Infatti, se noi facciamo fake impostor on... Qua vi dirà che siete crewmate. Ma ragazzi, guardate qua, appena entriamo. Boom! Potremo sabotare. Potremo fare tutto quanto. Ora non me lo fa fare, non so perché. Però comunque, raga, guardate. Avremo la kill. Potremmo killare la gente. Guardate un po'. Possiamo entrare nell'event. Possiamo ammazzare. Penso. Ok. Proprio ora devi passare, eh. Ragazzi, come vedete, possiamo riportare e possiamo pure ammazzare. Ok, ok, ok. Skippiamo il voto. Possiamo skippare il voto. What the fuck? Non so perché, ma disconnesso. Ok. Penso tutto normale. Ok, questa stanza è piena. Questa stanza ha appena iniziato. Mannaggia. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' le altre opzioni. Non che il cooldown, quindi. Non avrete tempo. Non dovete aspettare tutto con l'arco di tempo per killare. Potete vedere chi sono gli impostori. Non è emergency countdown, oppure questa. Non dovete aspettare il tempo per chiamare l'emergenza. Il wallhack, raga. Il wallhack, vediamo un po'. Funziona. Ragazzi, il wallhack funziona. Color circle, quindi possiamo cambiare colore mentre stiamo in partita. Vediamo un po'. Siamo impostori, ma non so se siamo impostori, veramente impostori. Ok, no. Ok, siamo impostori, impostori. Vediamo un po'. Facciamo no kill cooldown. E c'è disconnesso dal server. Oggi, ragazzi, non... Non ci vogliono far vedere le hack. Eeeh... Ci vuoi entrare? Ok. Allora. Possiamo vedere, quindi, gli impostori. Possiamo teletraportare tutti su una persona. Possiamo teletraportare tutti da noi. Perché siamo impostori, raga. Li ammazziamo tutti con un colpo. Possiamo frizzare le persone. Quindi, tipo, possiamo frizzare il verde e... Vabbè, ci hanno bannati. Eeeh... Non ci vogliono far provare queste hack maledette. Intanto, raga, le vediamo. Allora, possiamo attaccare tutti a un player. Attaccare tutti a un altro player. Spoof message non ho capito. Però penso che scrivono qualcosa in chat. Mi so. Kick player. Quindi, raga, possiamo kickare il player. Possiamo kickare un player anche se non siamo noi host. E lo facciamo ora con noi. Lo facciamo insieme a noi. Allora. Proviamo a kickare qualcuno. Tipo il blu. Niente. E ci bannano per cheating. Eeeh... Ok, raga. Intanto ve lo faccio vedere tutti. Qua, vabbè. Qua abbiamo lo skip vote. Ci abbiamo il cast vote. Quindi possiamo noi votare tutti quanti quella persona. Il blu del player. Quindi, ammazziamo il player quello là, l'impostore. Mi sa. Completare tutte le task. No, questo completare per ogni player le task. Quindi possiamo scegliere noi quale player completare tutte le task. E lo proviamo subito. Vediamo un po'. Il white. E i ragazzi ci bannano. Eeeh... Se sì. Si vede che... Sono... Ce ne sono di più, eh. Di persone che controllano le stanze, comunque. Allora, qua. Tutte le porte chiuse. Sabotege loop. Sabotege tutto quanto. Riparare o due. Ok. E qua ci sono tante altre cose. Forza impostor. Ok. Possiamo selezionare gli impostori quali vogliamo. Però questi. Solo per gli host, vi ricordo. Dove c'è scritto host? Host. Possono fare lì solo gli host, vi ricordo. Blade more. Quindi penso che possiamo ammazzare. Il crewmate. Quindi possiamo scegliere chi. Possiamo ammazzare gli impostori. Murder impostor. Quindi vediamo un po'. Come vedete, raga, qua. Ci dice che Emil è un impostore. Perché noi, infatti, abbiamo l'opzione per guardare tutti gli impostori. Quindi noi, raga, se tipo vogliamo ammazzare l'impostore, possiamo fare così. Murder impostor. E qua ci hanno bannato, ovviamente. Ok. Però, raga, come potete vedere, funzionano. E anche la grande. Allora, teleporter tutti da murder. Quindi, non ho capito bene. Random skin. Random skin. Random tutto. E qua, ragazzi, ci continuano a bannare. Comunque, se vedete in descrizione, avrete il link di questa bella hack di Among Us. Allora, e niente. Non ci fa entrare, raga. Vabbè, vi faccio vedere comunque io. E niente. Random cappelli. Random color, però solo con l'host. Potete vederlo. Farlo. E niente. Qua, chiudere le porte. Già l'abbiamo visto. Copy player. Quindi possiamo copiare tutto l'abbigliamento del player. Però non in colore, vi ricordo. E qua, riportare il morto a caso, anche se nessuno è morto. Bellissimo. Skip bot, già l'abbiamo visto. Skippare il vuoto. Kickare il player. Freeze version. Ok, l'abbiamo visto. Quindi tutti frizzati. O possiamo frizzare quelli che vogliamo. Mi sa, noi quelli che vogliamo. E niente. Questa, raga. Questa è la mod menu di oggi. Che vi faccio vedere. Ovviamente, vi lascio il link di quello che ha creato. Questa bellissima mod menu. E niente, raga. Spero che vi sia piaciuta. Non so perché mi continuava a bannare per hack. Se qualcuno di voi lo sa. Infatti, mi continua a bannare per hack. Il gioco maledetto. E niente, raga. Comunque, spero che vi sia piaciuto il gioco. Comunque, la mod. Scusate. Oggi non so. Proprio parlare. Spero che vi sia piaciuta la mod. Provatela. Ditemi se funziona. E niente, raga. Per questo video è tutto quanto. Ragazzi, mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Lasciate un bel like alla live. Vi ricordo, 40 like per il prossimo video. Per la prossima hack. Dive un po' cosa ne pensate di questa. È una bomba proprio. E se volete condividete il video con i vostri amici. E niente, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video di Hack di Among Us. O qualsiasi altro video. O in una prossima live. E niente, raga. Vi saluto. Bella. Ciao.